L'opera di Jacopone comprende un folto gruppo di laude, ben 92. Si tratta del più cospicuo corpus di laudi del Medioevo. Jacopone è il maestro indiscusso del genere. È analizzando soprattutto le laudi che possiamo farci un'idea della visione del mondo di Jacopone, una visione decisamente pessimistica. Il corpo è visto come un nemico insidioso, fonte di peccato e origine del male. Sulla terra l'uomo è destinato all'infelicità. Il mondo appare a Jacopone, dominato dal vizio e dal dolore, dall'egoismo e dalla violenza. Oltre alla realtà fisica, egli rifiuta radicalmente la vita sociale che gli appare dominata dall'egoismo, dall'interesse, dall'ambizione. Da questo rifiuto del mondo scaturisce la sua posizione ascetica, cioè la rinuncia sistematica a tutti i piaceri, la mortificazione del corpo e il disprezzo del mondo allo scopo di conseguire la perfezione spirituale e la comunione con Dio.